Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app! Il cuore c'è una sedia. Una sedia? Ah, sarà per i capelli? Secondo me li taglia a te, a lui. A lui non gli tocca, no? Come le taglio quei cose? Deve fa pelato se no. No, non c'è mai. La mia è in caccere, pelato. Possiamo andare allora, signori, prego. Andiamo tutti su nelle camerate, eccetto... Il signor Bettin. Una spuntatina? A vedere cosa? Già, ragazza conquistata. Basta, avanza. Non posso neanche far pelato. Vai, guarda là, va con te. Buongiorno. Buongiorno. Taglila, prego, eh. Questa, ecco, questa parte anteriore, che è quella che crolla sulla fronte. Non ci sarà più. Benissimo. Bella mano. Bene, bene, buona prosecuzione. No, no. No, grevi. Non sembri manco lì. Oddio, che schifo. Raga, massa malissimo. È bello. È bello. Massa di merda. Ecco il nuovo signor Presidente. Raga, potremmo andare anche via. Se dovete stare qua a rompere le p***e. Simone senza ciuffo non è più Simone. Quei casco di banana in testa era su marchi di fabbrica. Hanno tutto la mia personalità. È come sorvegliante adesso. Mi piacevano i capelli lunghi, però anche senza ciuffo è carino lo stesso. C'è un sottotitano bambino. Brutto super brutto, è sicuro. Però... Non è questo che mi ferma. Non è questo che mi ferma... Non è questo che mi ferma la rapetiera. Che mi ferma non è un po' di sottotitano? È un po' di sottotitano.